Giornata di rifinitura per il Napoli in vista della gara di domenica sera contro la Fiorentina. La squadra si ritroverà allo stadio Maradona per gli ultimi accorgimenti tattici in vista di una delicata sfida di campionato con Garcia che vuole vedere una squadra motivata e affamata di risultati. Il tecnico francese non dovrebbe cambiare molto nell'undici titolare cercando continuità negli uomini che hanno fatto molto bene contro il Real Madrid nonostante la sconfitta. Almeno dieci degli undici uomini che sono scesi in campo martedì in Champions faranno parte della formazione titolare. E' ipotizzabile che scenderanno in campo così con Meret tra i pali, linea difensiva con Di Lorenzo, Ostigard, Nathan e Mario Rui in vantaggio su Oliveira dopo le polemiche del procuratore Giuffredi. Anghissalo, Botka e Zielinski a centrocampo e il tridente sarà composto da politano Osimenec, Varaschelia. Fatto sta che in casa Napoli arrivano anche buone notizie dall'infermeria. Infatti Amir Rachmani sembra aver recuperato dall'infortunio ed è ipotizzabile che possa essere convocato per la sfida contro la Fiorentina. La nazionale Kosovara gli ha risparmiato la convocazione e ora bisognerà vedere che deciderà il tecnico francese. Se convocarlo per portarlo in panchina così da fargli respirare l'aria della squadra dopo un'assenza prolungata dalla trasferta di Braga oppure se rimandare il ritorno direttamente dopo la sosta al Bentegodi con il Verona. Intanto sorge sempre di più un interrogativo in casa Napoli che ruota intorno a Giacomo Raspadori. Il calciatore azzurro è stato convocato nella nazionale di Spalletti che sfiderà Malta e l'Inghilterra tra i 14 e il 17 ottobre prossimo. Spalletti l'ha sempre utilizzato nel fronte offensivo sia come punta sia come seconda punta. Garzia al contrario non l'ha inquadrato così. Il tecnico francese ha sperimentato Raspadori in più zone del campo ottenendo nonostante tutto anche buone prestazioni. Intanto in casa Fiorentina si faranno tutte le valutazioni del caso dopo il match di giovedì sera in Conference League. Potrebbe arrivare la terza gara in sette giorni per Beltran che italiano sembra orientato a preferire Anzolà al centro dell'attacco viola. Gonzales, Bonaventura e Brecola girano alle spalle dell'argentino mentre Duncan e Arthur saranno lo schermo davanti alla difesa. Cotterranciano in porta a destra non ci sono alternativa a Cagliode mentre a sinistra dovrebbe toccare a Parisi. Al centro della difesa la coppia Milenkovic-Martinez quarta.